Una buona sera a tutti e una buona domenica. Ci troviamo a Novate Milanese, alla chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso. Qui ho già inquadrato le stupende e maestose campane, 5 in la 2 crescente, fuse da Carlo Ottolina a Seregno nel 1951. Nel video vedrete proprio lo stemma sul campanone che è dietro. Questo qui appunto è il campanone, la 2 crescente, maniglie, una ruota e il battaglio. Come possiamo vedere è il ceppo munito di due bocce. Qui invece vediamo il R3. Qui abbiamo poi il Si2 che intravediamo solo. Dietro abbiamo invece il Do Diesis e su invece la piccola, il Mi. Qui l'orologio e nel mentre vi dico che vi farò ascoltare per la messa della domenica delle ore 18 il concerto solenne addirittura, anche per me è una rarità, è una novità, concerto solenne completo. Buona visione. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.